benvenuti in ng security oggi vedremo come utilizzare una rubber ducky andiamo sul sito ufficiale ed è questo qui di hack5 come potete vedere il prezzo è di 80 dollari e scrollando giù potete vedere altre descrizioni innanzitutto spieghiamo cos'è una rubber ducky una roba una rubber ducky è un h id ovvero una human interface device significa che è una pennetta che ha un guscio esterno come vedete qui e all'interno c'è un sd dove caricare il file malevolo quindi somiglia una normale pennetta ma in realtà è una pennetta malevola questo dispositivo funge come se fosse una tastiera nel momento dell'inserimento il computer non la va a considerare come un mass storage ma come se voi aveste collegato una tastiera è come se voi o il potenziale hacker fosse davanti alla tastiera della vittima e digitasse con le sue proprie mani solamente in maniera più veloce cliccando su products vi porterà nella pagina dei prodotti dove vedrete altri prodotti utilizzati per l'hackeraggio come vedete abbiamo la berda chi abbiamo la bass banni lo mc cable abbiamo dedicato anche un bellissimo articolo nel nostro blog anzi ne approfitto per farvi vedere questo è il nostro blog dove pubblichiamo articoli molto molto interessanti anche un po più tecnici riguardo il mondo dell'ethical hacking ad esempio questo qui era dedicato proprio al cavo mg quello che vi mostravo poco fa e c'è tutta quanta una descrizione e soprattutto come fare l'analisi forense del cavo torniamo nella nostra pagina dei prodotti clicchiamo di nuovo sul rubber ducky e proviamo a spiegare come armare questa pennetta prima vi dicevo che c'è un involucro esterno e un involucro interno è importante che voi apriate la pennetta aiutandovi con un coltellino qualcosa di simile e che estraete la micro sd e la inserite nel vostro laptop quando inserite la micro sd nel vostro computer vi apparirà una folder dove troverete un file chiamato inject punto bin che adesso andremo a vedere inserisco la micro sd ed ecco qui la nostra folder come vi dicevo come vedete avete differenti file anche un file con payload dot html ma quello che ci interessa a noi è questo file qui inject dot bin in quanto questo è il file dot bin standard della pennetta e va sostituito con la payload che andremo a creare quindi è semplice per armare questa pennetta basta creare un file dot bin lo faremo in payload studio e poi semplicemente sostituirlo con questo mi raccomando non cancellatelo perché se lo cancellate e inserite il vostro inject dot bin poi non funzionerà poi non funzionerà lasciate quindi questo file semplicemente copiate e incollate il vostro inject dot bin e lo sostituirà automaticamente andiamo ora nel nostro editor payload 5 clicchiamo qui fatemelo cercare un secondo eccolo qui e questo è l'editor di payload studio sempre di hack 5 per poter generare le vostre payloads ovviamente è bene dire che questo video è un video di ethical hacking e quindi dovete fare un uso etico di questa pennetta e utilizzarla ad esempio nei vostri penetration test soprattutto in pentest di red teaming o di tipo fisico bene questa è diciamo l'interfaccia come potete vedere un vero e proprio editor potete cancellare tutto e scrivere quello che volete noi a questo punto utilizzeremo una payload standard disponibile nel sito di hack 5 semplicemente per mostrarvi come funziona ovviamente avete tutto il tempo per fare la vostra pratica e per diventare esperti c'è da dire che potete comprare anche il corso per imparare a programmare queste pennette e dovrebbe essere questo qua advanced and accurate script course se ci cliccate è un corso che costa 50 dollari ed è dedicato proprio a insegnarvi come programmare da zero queste payload andiamo a selezionare una payload standard andiamo qui in payload hub e come vedete in questa pagina vi si presentano due bari di ricerca una è per device potete cercare il device a cui siete interessati a questo punto mettiamo rubber ducky e qui avete anche categoria e qui avete tutte le payload per categoria possiamo ad esempio cliccare remote access e avrete delle payload standard già programmate da poter utilizzare se clicchiamo qui ad esempio la copiate andate nel vostro browser la incollate e vi porterà nel repository di questa payload qui avete diverse informazioni insomma potete aver tempo di esaminarle tutte noi andiamo al sodo clicchiamo su payload.txt ed ecco qui il nostro codice questo codice dovete semplicemente copiarlo lo copiamo torniamo nel nostro payload studio lo andiamo ad incollare qui abbiamo tutto diciamo poi il nostro codice una volta fatto questo cliccate su generate payload e automaticamente il vostro file verrà generato questo è l'inject.bin che è stato creato facciamo download il file viene scaricato a questo punto non ci resta che andare nei nostri download come potete vedere il nostro file è qui in jack.bin dobbiamo aprire poi la folder della rubber ducky e semplicemente copiare questo file all'interno della rubber ducky come vedete è stato copiato e a questo punto il file è pronto per essere iniettato bene questo video è giunto al termine se volete restare sempre aggiornati abbonatevi al canale ci vediamo presto in ng security